E' stato sgominato un gruppo specializzato in furti d'auto, rapine e truffe alle assicurazioni. I carabinieri hanno dato infatti esecuzione a tre ordinanze di custodia cautelare, due in carcere e una ai domiciliari, nei confronti di persone che avevano scelto, come territorio di caccia, la zona ospedaliera nel quartiere Vomero a Napoli. Tra le vittime anche i pazienti del secondo policlinico e dell'ospedale pediatrico Santo Bono, che venivano adescati con la tecnica del finto parcheggiatore. Uno degli arrestati si faceva consegnare le chiavi dell'auto dall'ignauro automobilista. Le chiavi venivano passate a una seconda persona che si dileguava, insieme alla terza, alla guida di un'altra auto. In carcere sono finiti Giuseppe Guarino, 37 anni, Massimo Niro, 51, ai domiciliari invece Salvatore Grassi, 34 anni. Tutto è partito da una serie di denunce di furti e rapini con la stessa modalità, ma non si occupavano solo di quello. Avevano bisogno di soldi, così hanno scelto di lanciarsi nel settore delle truffe assicurative, simulando incidenti stradali, secondo quanto emerge da un'attività di intercettazione. Grassi, nell'ordinanza a suo carico, viene indicato come il coordinatore. Sarebbe lui, infatti, a organizzare l'attività dei diversi soggetti e a disporre la divisione dei guadagni tra di loro, intestatari anche di veicoli, medici, avvocati e periti assicurativi. Dalle chat estrapolate risulta, infatti, che l'indennizzo non viene interamente acquisito dal formale intestatario del sinistro, ma viene suddiviso tra tutti i partecipi ognuno con la propria percentuale. E che gli incidenti siano fittizi viene dimostrato dal tenore delle conversazioni estrapolate, da cui si evince che costantemente gli indagati, dopo aver effettuato i finti sinistri stradali a cui seguono gli indenniti, si liberano dei veicoli. Ulteriori accertamenti hanno anche consentito di accertare l'indebita percezione del reddito di cittadinanza da parte dei componenti della famiglia di uno dei destinatari dei provvedimenti, che a partire dal 2021 avrebbe percepito la somma di 38.627 euro, per la quale è stato disposto il decreto di sequestro preventivo.